Rassegna stampa del 2 giugno 2022, oggi è il giorno della festa della Repubblica in Italia, e allora buona festa a tutti voi, ben sintonizzati, ben ritrovati cari telespettatori sul canale 19, c'è Occhio ai giornali anche questa mattina, e Occhio ai giornali che comincia come sempre con il santo del giorno, oggi sono due santi, un prete e un esorcista, abbiamo San Marcellino e San Pietro, allora Marcellino era un prete mentre Pietro esorcista, tutti e due sono stati, sono morti martiri perché furono condannati a morte durante la persecuzione dell'imperatore Diocleziano, e condotti tra i rovi sul luogo del supplizio, ebbero l'ordine di scavarsi praticamente il sepolcro, la fossa, dove appunto sarebbero poi morti, ma la pia donna Lucilla diede degna sepoltura le loro sante membra a Roma, sulla via Labicana, nel cimitero a Duas Lauros. Il sole è già sorto alle 5.27, tramonterà questa sera alle 20.45. Andiamo a vedere, prima di vedere, ah no, facciamo così, guarda, andiamo qua, ok, andiamo a dare un'occhiata al tempo, perché c'è poco da dire in realtà per questi giorni, perché vedete oggi la giornata del 2 sarà completamente estiva, soleggiata, con temperature in aumento, per la giornata di domani, venerdì, qualche nuvolosità in più, però diciamo soprattutto durante la serata, e poi invece ancora sabato, sabato 4, tempo buono, soleggiato, quindi per tutti coloro che sono qua, diciamo al mare, in vacanza, ecco potranno godersi, potranno godersi queste belle giornate di sole, praticamente estive. Allora io adesso invece volevo portarvi, forse era il caso di fare un'altra cosa, ma va bene, chissà se riusciamo, sì, 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 ce l'abbiamo fatta, ecco qua, vi porto questa mattina, ieri abbiamo visto Senigallia dall'alto, un bel tratto di spiagge di Velluto di Senigallia, oggi invece andiamo a vedere la webcam in diretta dalla spiaggia, un'altra bella spiaggia, guardate che meraviglia, di Baia Famiglia a Pesaro. Ecco come si presenta in queste prime ore del giorno, guardate con questa luce, il sole sorge alla vostra, alla destra del vostro teleschermo, naturalmente lo dico perché non è della zona, e vedete come stia già baciando questo tratto di spiaggia stupendo, queste sono immagini in diretta, infatti si vedono proprio anche le piccole persone che si muovono, vedete qualcuno sta arrivando in spiaggia, altri invece sono già lì, ecco questa è la fotografia, e vi voglio far vedere soltanto, i pesaresi lo conoscono benissimo, ma questo qua, ecco, qui c'è il faro, ecco questo puntino bianco che spunta, questa cosa che spunta in mezzo al verde, è il faro. Ok, andiamo allora adesso dopo aver sognato un po', magari per chi non voleva oggi andare al mare, ma che purtroppo magari non ci può andare, insomma, ecco, li abbiamo un po' fatti sognare. Adesso andiamo a leggere i giornali, ci sono anche oggi molte notizie, molta cronaca, il resto del carino questa mattina apre con una fotonotizia, il grido di mille persone che sono i residenti di Muraglia e Monte Granaro, che chiedono con tanto di firme di non installare l'antenna di telefonia, queste antenne di telefonia che tanto preoccupano per la salute, soprattutto preoccupano, sono quelle famose antenne 5G e quant'altro. Poi c'è invece in apertura la cronaca con il ricatto, il ricatto lo leggeremo nei dettagli tra poco, una donna è stata ricattata con una foto nuda sul web, una pesarese vittima di ritorsione sessuale, voleva tornare con il suo ex fidanzato, ha accettato di, così come spesso accade quando uno è un po' in preda, la disperazione, le prova tutte e spesso finisce con lo sbattere le corna dove non dovrebbe e si fa male, in questo caso finti maghi e cose di questo genere, però andremo a leggere poi un po' nel dettaglio come, anche per mettervi in guardia, un po' come si sono sviluppati i fatti. Poi dopo il sisma arriva il tesoretto, 11 milioni per ristrutturare la scuola, l'agrario e la scuola del libro, da Roma arrivano fondi per i due istituti di Pesaro Urbino, poi Galantara, Galantara che diventa casa di comunità ma è difficile da raggiungere, Marche Nord, un quinto dei ricoveri Covid da fuori provincia, il bilancio fatto dall'azienda, poi sempre sulla prima pagina del Carlino, un caso che è avvenuto a Fano di cui si sta discutendo in tribunale, droga dello stupro, donna accusa un uomo che dice mi ha fatto bere qualcosa e poi mi ha violentata, la famosa droga dello stupro. Poi a Gabice Mare un titolare di autolavaggio invece arrestato per capolarlato, mentre di taglio basso la sfida di Valentina, tutta l'Italia in bicicletta, da Aosta all'Euca per difendere i diritti di tutti e oggi cerimonia in piazza del popolo a Pesaro in prefettura, festa della Repubblica, sfilano i nuovi cavalieri, cavalieri del lavoro. In apertura invece il Corriere Adriatico edizione pesarese, anche oggi il problema della siccità, della poca pioggia che cade anche sulla nostra terra, sulle Marche. La pioggia non basta, la terra ha sete, questa è la fotonotizia, siccità all'allarme di agricoltori e allevatori, mentre al mare stop alle auto, si passeggia a Ponente, siamo a Pesaro, ripristinate le due aree pedonali in Viale Trieste, domani l'inaugurazione anche a Levante, per contenere la movida molesta, il Comune installerà telecamere nelle zone maggiormente critiche. Chi ha reddito di cittadinanza ora può lavorare per il Comune, lo prevede una legge, e anche questo è un articolo che andremo a leggere un po' più nel dettaglio. C'è questa intervista, o meglio un appello del consigliere regionale Giacomo Rossi dei Civici Marche che ricorda che appunto come per effetto di un decreto del Ministero del Lavoro sono stati istituiti alcuni PUC progetti utili alla collettività, alle quali insomma se uno viene chiamato teoricamente non si potrebbe dire di no, perché se uno rinuncia poi perde anche il sussidio. Quindi insomma, ancora cronaca, foto nuda al mago per il rito d'amore, ma lui, il mago, la ricatta, o mago tra virgolette, sfruttava dipendenti, un egiziano accusato di caporalato, a Gabice abbiamo visto finito in cella, e poi a Pesaro oltre mille firme per dire stop all'antenna 5G. E poi un'altra storia che andremo a leggere più tardi, sette omicidi con i farmaci e ergastolo per l'infermiere. Wick è colpevole per le morti nella RSA di Offi, del PM dice sentenza giusta, l'amarezza invece dei familiari. Sempre dalla prima su Fano, il lungomare, quello che viene definito waterfront, il lungomare di Sassonia, affidati gli incarichi per i progetti. E allora, partiamo da Fano, partiamo dalla notizia che riguarda gli autovelox. Ieri sono entrati in funzione, abbiamo detto i nuovi autovelox, sia a Cucurano di Fano, sulla Flaminia, sia a Metauriglia, lungo la strada alle 16. C'era timore per un'eventuale strage di multe, perché il limite in questi tratti di strade, in due tratti particolari, di queste due strade molto trafficate, è di 50 km orari. In realtà si è scoperto che è andato tutto molto bene, pur essendo elevatissimo il numero degli automobilisti di passaggio. Questo perché? E andiamo sul Corriere Adriatico di questa mattina. I guidatori erano, a quanto pare, ben informati. Sospiro di sollievo a Cucurano e a Metauriglia, pochi superano i 50 all'ora. Se è vero, scrive Osvaldo Scatassi, che il buongiorno si vede dal mattino, ieri l'accensione dei due autovelox a Cucurano e a Metauriglia di Fano, ha alleggerito molto la pressione sui pedali del gas. Quindi rispettosi al volante, la contravenzione, lo ricordiamo, prevista al superamento dei 50, 55 perché ci sono i 5 km di tolleranza. Probabilmente qualcuno ha sgarrato, ma per il resto possiamo dire che in generale insomma tutto è andato per il meglio. Anche noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo fatto vedere dei servizi più volte, ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, insomma abbiamo cercato in tutti i modi, anche con la condivisione su Facebook, dove noi abbiamo migliaia di persone che ci seguono, abbiamo detto fate attenzione, e quindi evidentemente ha funzionato. Urtata da un'auto invece in via Papiria, siamo sempre a Fano la cronaca, una giovane ciclista finisce a terra, curata al pronto soccorso, ha riportato soltanto lievi ferite, si parla di una 38enne fanese che è stata poi portata, come dicevamo, alla Santa Croce. Poi andiamo sull'altra pagina, perché qui non si parla di viabilità, non si parla di autovelox, ma si parla di parcheggi a pagamento. Ieri, un'altra novità fanese, sono stati attivati i parchimetri, quelli dove tu devi fare il bigliettino, mettere la monetina e prendere il ticket, il biglietto per il parcheggio a pagamento. Ebbene, ieri mattina, io ero lì tra l'altro per il pranzo, effettivamente c'era una scena un po' surreale, tutto questo viale con i parcheggi blu, liberi e non c'era una macchina. Il titolo del Carlino di questa mattina è Parcheggi blu al debutto, gli accertatori scatenano il fuggifuggi, molti clienti del ristorante La Perla avevano parcheggiato senza contrassegno, all'ora di pranzo, all'arrivo degli operatori Aset, hanno dovuto abbandonare la tavola e correre a spostare l'auto. Ora, perché spostare l'auto? Bastava fare il biglietto e rimanere in due minuti e risolvere la faccenda. Io sono sempre stato, e questo è un parere personale, naturalmente, poi qualcuno, magari chi abita lì intorno, sarà contrario, ma io credo invece che sia importante un ricambio, soprattutto in una zona importante come quella del mare. E i turisti che vengono e che devono magari sborsare anche 10 euro per andare, mette tutto nel conto e comunque le casse del comune ci guadagnano, il che non è uno scandalo, insomma, va bene lo stesso. Quindi io, sul fatto che d'estate si paghi per stare un po', insomma, per questi motivi, ci sta. Dunque, si lamentano tutti, ma questo va bene, si sapeva già, poi tra qualche giorno, insomma, uno se ne fa una ragione e va avanti lo stesso. Il cantiere, invece, guardate questa fotografia, questo rendering, ve l'abbiamo già fatto vedere nei giorni scorsi, stiamo parlando del progetto del cantiere Wider che si abbasserà da 24 metri a 14 metri. Il cantiere si accorcia, figuraccia del comune, però, dicono quelli del Movimento 5 Stelle di Fano, i quali, aggiungono, parlavano di straordinario rilancio, ora tornano indietro. Intanto, quanto tempo è stato perso? Allora, adesso, facciamo attenzione alla prossima notizia, andiamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, Luigi Benelli, ci informa su questa notizia che adesso andiamo a leggere un po' nei dettagli perché che serva, che serva soprattutto per coloro che magari potrebbero cascarci e che si trovano in situazioni simili. Allora, intanto, il titolo è Foto nuda per il sortileggio d'amore ricattata dal sedicente Fattucchiere, subito 1.500 euro oppure sarà messa in rete. La donna denuncia il tentativo di estorsione poi alla polizia. Allora, stiamo parlando di una storia che riguarda una donna peserese di 40 anni che è finita vittima di un raggiro che toccava le corde dei sentimenti e l'amore che tuttora questa donna di 40 anni prova per il suo ex fidanzato. Quindi una storia, quindi lo scenario è questo, una storia di amore che finisce, lei che rimane innamorata di lui, lui che non ne vuole sapere, lei che prova di tutto per ricongiungere. E cosa succede? Questa donna un certo giorno, il diavolo fa sempre così, riceve sul telefonino, su WhatsApp un messaggio, un messaggio del tipo hai bisogno di una consulenza d'amore, penso che sia una cosa che più o meno riceviamo quotidianamente. La ragazza, sono quelle proposte pubblicitarie, la ragazza ha risposto, ha risposto in qualche modo ed è iniziata appunto questa conversazione in chat. Così dall'altra parte sono arrivati i primi suggerimenti e anche divinazioni, il tutto per piccole somme, 30-40 euro che poi sono state spedite tramite carte prepagate o ricaricabili. Ora, dall'altra parte che cosa è successo? Questa donna ha cominciato a trovare un aiuto, quindi ha cominciato a crederci a questa cosa pensando che dall'altra parte ci fosse veramente qualcuno che volesse aiutarla e avesse risolto una volta per tutte questo problema d'amore. E quindi si è aperta, ha cominciato a confidarsi citando l'ex fidanzato così a questo punto dall'altra parte ma dall'altra parte è il Benin, siamo nello stato africano, queste persone hanno cominciato a dirle adesso ci pensiamo noi manda una foto tua nuda, completamente nuda perché così facciamo questo rituale che sicuramente ti rimetterà insieme al tuo ex fidanzato. Mi devi mandare una foto nuda finché il legamento possa funzionare bene. La donna che cosa ha fatto? Ovviamente ormai c'era, si è scattata questa foto completamente nuda e quando le ha mandato la foto poco dopo indovinate che cosa hanno scritto dal Benin adesso o ci mandi 1.500 euro oppure la foto tua nuda con tanto diviso la pubblicheremo in rete. Eccola là. Se non ci mandi 1.500 euro faremo girare online le foto e qui poi naturalmente ormai il cortocircuito scrive Luigi Benelli si è rinnestato e quindi la donna disperata si è rivolta alla questura di Pesero per denunciare il tutto. ovviamente questi apprendisti stregoni vatteli a pesca non li troverai mai ma comunque ecco questo per raccontarvi e per dirvi di fare assolutamente attenzione insomma accendete meglio una candela in chiesa piuttosto che andare a cercare questi soggetti. Allora un altro raggiro di cui parla Benelli questa mattina sul giornale sul Corriere Adriatico anche questa interessante insomma è stata raggirata un'impiegata di banca l'altra sera una ragazza austriaca di 24 anni si è rivolta alla questura di Pesero accompagnata da un'amica pesarese per denunciare una truffa subita la giovane ha detto di essere stata contattata anche qui sempre su Whatsapp questo Whatsapp croce delizia per molti dall'Europol immaginate insomma dall'Europol e questo messaggio scriveva c'era scritto in questo messaggio sei ricercata in tutta Europa sappiamo dove sei se non vuoi vedere il tuo passaporto annullato e rimanere in Italia per essere processata devi inviarci 4.000 euro la ragazza ovviamente terrorizzata del messaggio ricevuto pensava di essere davvero nei guai e quindi insomma ha ceduto alla fine ha cominciato a mandare soldi 1.500 poi altre 1.500 e infine 1.000 euro questa donna completamente nel pallone ha effettuato i bonifici richiesti e così sono spariti dal conto 4.000 euro capite a volte si va purtroppo succede si va in cortocircuito evidentemente anche cose palesemente false e uno le reputa avere ma è un cortocircuito mentale che purtroppo avviene per questo bisogna anche confidarsi eventualmente quando arrivano queste cose far vedere sempre e farsi aiutare anche da qualcuno che potrebbe essere invece magari più sotto un'altra luce quindi vedere meglio le cose come stanno quindi mai fare le cose da soli confidarsi sempre con qualcuno perché quel qualcun altro potrebbe aiutarvi a non cadere in queste trappole adesso parliamo invece di sanità sempre sul Corriere Adriatico di questa mattina di Marche Nord da ricci e seri critiche pregiudiziali qui c'è una risposta alle critiche dei due sindaci di Pesaro e di Fano appunto ricci e seri sulla questione dell'annullamento insomma della cancellazione di Marche Nord e chi risponde per le rime i consiglieri della Lega che sono Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri che replicano appunto ai sindaci contro il taglio dell'azienda Marche Nord ora la sanità pesarese verrà potenziata ribattono appunto i consiglieri della Lega al contrario di quanto sostengono ricci e seri le inefficienze di oggi non sono della giunta a Quaroli che lo ricordiamo di espressione di Fratelli d'Italia perché sono il frutto delle scelte sbagliate fatte dall'intero centro-sinistra poi ancora al contrario della regione Marche in questi primi 18 mesi di legislatura c'è stata un'attenzione straordinaria per l'intera provincia pesarese come dimostrano i 150 milioni per il nuovo ospedale di Pesaro i 23 milioni per l'ospedale di Fano e le decine di milioni di investimenti con i fondi PNRR finalizzati a costruire un modello policentrico e non solo un ospedale unico provinciale ora l'abbiamo già detto ieri che cosa prevede ma velocemente questo nuovo piano della regione intanto la cancellazione o comunque la rivisitazione di questo assetto ASUR area vasta adesso ci sono le ASUR ci sono le area vasta dopo ci saranno 5 aziende provinciali le ASP 5 aziende provinciali che avranno che potranno integrare poi saranno efficienti sinergiche e potranno impedire duplicazioni di funzioni e fornire servizi più efficienti insomma secondo la regione l'avrebbero studiata meglio di quanto abbiamo fatto appunto nel passato quelli di centro-sinistra ma attenzione torniamo a Fano sul resto del Carlino c'è ancora cronaca un'altra storia incredibile che però questa volta è finita a processo in tribunale di questo è da lì che il Carlino ha ripreso oggi questa notizia io violentata con la droga dello stupro che cos'è questa droga dello stupro che a pensarci bene fa venire la pelle d'oca altro non è che come vedete dalla fotografia vedete la donna è girata di spalle quindi non si accorge di niente questo potrebbe essere un po' il scenario che accade e poi il tipo il delinquente il violentatore che cosa fa mentre la donna è distratta tac versa qualche goccia di questa droga chiamata droga dello stupro allora e tutto questo è accaduto in una serata tra il 19 e il 20 giugno del 2021 una festa tra amici dove la prima parte di questa serata era trascorsa in allegria in un bar di Fano poi la compagnia si era spostata a casa di uno dei ragazzi qui dopo la mezzanotte era arrivato poi un trentenne un trentenne non italiano ma di origini brasiliane però residente a Fano ora questo ragazzo questo ragazzo di 30 anni siccome la serata si stava un po' spegnendo lui si è presentato davanti a questa giovane con un calice di spumante in mano lei ha accettato di bere questo spumante però secondo il suo racconto il racconto della donna quella sera quell'uomo aveva già provato a corteggiarla ma senza successo lei non era interessata a lui e glielo avrebbe fatto capire dire sì a quella bevuta insieme le era sembrato dunque qualcosa di assolutamente innocuo non l'avesse mai fatto perché? perché a suo dire secondo il racconto di questa di questa donna dopo averlo sorseggiato questo spumante ha sentito un improvviso senso di nausea e stanchezza così è andata nella camera da letto e si è stesa in quel frangente sarebbe arrivato il trentenne brasiliano che avrebbe cominciato a spogliarla e dopo averla girata in posizione prona l'avrebbe violentata nonostante le proteste della ragazza poi con nonchalance appunto nonchalance lo aggiungo io se ne sarebbe appunto andato si parla ancora sulla pagina 3 del resto del calino di truffe questa mattina c'è una pagina guardatela qua truffe web la piaga cresce e ci cascano anche le persone cosiddette normali arrivano in questura quasi 400 denunce l'anno a Pesaro l'analisi del poliziotto che dice la gente così presa dagli impegni che si trova le difese abbassate non solo a mio parere perché a volte capita anche a me ci sono annunci sempre più suadenti che ti invogliano però però la tua testa è sempre piena di cose da fare eccetera quindi e si va sempre di fretta sembra sempre anche quando sei sui social di non avere mai tempo e quindi si fanno complici anche le azioni che uno fa con un dito con un dito fai tutto e ti ritrovi a cliccare tac 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 arrivi in fondo e sei in mutande quindi attenzione meglio fermarsi un attimo riflettere c'è questa storia che arriva da macerata anche qui siamo all'epilogo finale di un uomo un infermiere che avrebbe ucciso sette persone che cosa faceva queste donne queste persone erano in una casa di cura e lui le avrebbe secondo l'accusa uccise iniettando a queste persone dei farmaci oltremisura ora il titolo omicidi con farmaci punito con l'ergastolo l'infermiere della RSA Leopoldo Wick questo è il nome riconosciuto colpevole di sette assassini premeditati e uno tentato lui ribadisce sono innocente le morti avvenute nella struttura di Offida tra il 2017 e il 2018 ora lui ha assistito questo infermiere che è stato condannato e che si dice innocente assistito impassibile dopo cinque ore di Camera di Consiglio la Corte d'Assise di Macerata ha condannato questo infermiere ritenendolo responsabile della morte di queste sette persone insomma ha letto il giudice ha letto questa condanna all'ergasto con isolamento diurno per un anno sospensione della potestà genitoriale interdizione dei pubblici uffici insomma tante cose però è stato impassibile tutto come vedete nel riquadro pubblicato sul Corriere Adriatico ha avuto inizio quando una collega una donna una operatrice socio-sanitaria in servizio in questa casa di riposo Doffida ha fatto questa segnalazione da lì è scattata l'indagine nel 2018 che ha portato all'arresto di questo 58enne infermiere il 15 giugno del 2020 sarebbero stati provocati questi decessi da ripetute somministrazioni in debite di farmaci come promazzina insulina e anticoagulanti e la corte d'assise di Macerata ieri l'ha condannato all'ergastolo andiamo velocemente a vedere le altre pagine allora da Pesaro Ponente parliamo della spiaggia di Ponente stoppa le auto ritorna la passeggiata tra Luci, Colori e Gazebo domani si inaugura l'altra area pedonale a Levante in Piazzale d'Annunzio e poi la spiaggia dei Cani a Baia Flaminia e in cerca di gestore da Fano invece la passeggiata il waterfront dall'Aula via Libera agli incarichi per la progettazione per Torrette Ponte Sasso disponibili 220 mila euro per Sassonia 340 mila e poi ancora caro gasolio nessuna concessione alla protesta Roma bombe carta lanciate contro il Ministero poi chi incassa il reddito di cittadinanza non abbiamo tempo purtroppo per approfondire ma comunque ora può lavorare per il Comune si fa rifarimento e questo lo dice il consigliere Rossi di Civici Marche che scrive ai sindaci delle Marche dice nell'ambito dei progetti utili alla collettività i sindaci possono le persone che prendono il reddito di cittadinanza possono essere impiegate per otto ore a settimana queste iniziative sono state già avviate a Pesaro ad Ascoli Piceno e ad Ancona ora l'importo medio di cui stiamo parlando poi c'è chi prende di più chi prende di meno ma comunque in linea di massima sono parliamo di un importo di 514 euro al mese per chi prende il reddito di cittadinanza 16.000 le famiglie per settori di almeno una mensilità ci sono 34.000 persone coinvolte 6.277 invece le richieste tra gennaio e aprile del 2022 1280 nel Pesarese e poi ci sono questi progetti però attenzione progetti utili alla collettività che si possono attivare e quindi tra l'altro bisogna anche dire che se una persona viene chiamata dal comune per fare uno di questi progetti o nuovo oppure già avviato e dice di no perde l'assegno allora velocemente a maggio più caldo di 2 gradi la terra sempre più sete andiamo sull'altra pagina tutti i numeri dell'azienda ospedaliera presentata la relazione di bilancio di esercizi 2021 guardie mediche siamo a Pergola in Mondavio così non si resta scoperti per il terzo mese di fila le sedi funzioneranno a incastro cioè se in un posto manca il medico nell'altro c'è e qui c'è anche il calendario oggi la festa della Repubblica tutti premiati è tutto grazie per aver seguito la rassegna stampa buona festa a tutti ci vediamo stasera alle 20 e 30 con occhio alla notizia il telegiornale di Fano TV Grazie a tutti